Io direi ragazzi a questo punto di farci un bel giro delle antenne, sapete? Siamo nel lato primo, non abbiamo fretta, non abbiamo obblighi, non abbiamo nulla Io direi di fare qualche... Cosa per te? Devo vedere Va bene Vedermi? Cioè tu e io Devo cercare uno con la maschera Niente maschera, segui il mio signore Quindi ora vuoi incontrarmi? Non voglio, ma dubbiamo farlo Perfetto, grazie, non mi interessa Cioè, non mi interessa adesso Allora c'è da entrare qua dentro E far fuori Questa Gru Cioè no, far fuori Trovare l'hacking necessario L'antenna è lassù Quindi telecamere Ok, sblocca Perfetto Perfettissimo Portiamo giù l'ascensore E' meglio di così come poteva andare ragazzi Meglio di così non si poteva fare Qua si scende E si sblocca l'antenna Che dà vita a tutta quest'area qua Qua c'è la campagna Ma noi ce ne sbattiamo perché andiamo a sbloccare un altro sistema Ho tutto ora sbloccato Ok, perfetto Punto abilità ottenuto Attenzione, un punto abilità Che lo andiamo a spendere Quei cosini che Alzano Quei paletti per strada Avete capito, insomma Va bene, andiamo al prossimo Che non dovrebbe essere tanto lontano da qui I crimini poi li facciamo più avanti Avevo lasciato la macchina qua quindi Perfetto Perfetto Oh, che botta Anyways, signori Altra torre Antenna, vabbè Dai Che qua secondo me si fa piuttosta Vorrei sbagliarmi ma non credo di sbagliarmi affatto Telecamera Che è già qualcosa Eh no Così invece si ha Una telecamera sola lì che funzioni Che bello che Aiden non si possa autoscansionare Scansionare Io vorrei sapere Ok 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 Vado a fare il giro Perfetto E lì come ci arrivo? Dall'ascensore là Ok Volevo sapere una cosa Ah sì Ma non mi ricordo Va bene Attualmente è stata risolta nel frattempo e quindi me la sono completamente dimenticata Ah e mo Mo si fa così Esattamente Perché è bloccato? Brutta merda Qua è sbloccato Qua no però Il filo va su Quindi si sblocca qua Ok Perfetto Una volta è proprio Vengo affogato dal mio stesso cervello Appunto Appunto Vengo affogato dal mio stesso cervello Vengo affogato dal mio stesso cervello Esattamente così ragazzi Vabbè ma fammi partire da più un culo no? Ah 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 E io che pensavo fosse tipo quello per Per aprire Ah per acchelare Vabbè va bene Vabbè va bene Vabbè va bene Vengo affogato dal mio cervello Boom No No perché ho variacchierato tutto No No E però sei stronzo tu eh Lì sei stronzo tu Fatelo dire Lì sei veramente stronzo tu Bene godo Stavolta l'abbiamo scampata E ce ne andiamo così Da leggende umane Contenuto aria sbloccato Perfetto Perfetto ce ne andiamo Dove sono le altre antenne? Qua Ok Penso sia disponibile Con l'area della mappa lì Penso di sì Eh ragazzi Tocca farci il viaggetto Madonna tutte le volte Cioè io ve lo dirò finché Giochiamo a sto gioco Che Mi ricorda veramente troppo GTA 4 C'è una cosa veramente incredibile Dico come questa macchina Anzi La maggior parte delle macchine in questo gioco Non vadano dritte per nulla Non vanno dritte eh E io hackerò le cose a caso così Comunque se a differenza di GTA 4 Tutta la mappa è già sbloccata Siamo a posto Bello tranquillo C'è Punti dove vieni Immediatamente risincronizzato Cheat Ubisoft Qua va è piuttosto Sicuro Ed è bene così Ok se andrò in una parte un pochino più Chiamiamola desolata della mappa Presumo sia più semplice sbloccare questa antenna Adesso l'ho detto E la prenderò nel culo Però già vedo l'antenna Il che è buono Il che è buonissimo Perché non mi pare così difficile da raggiungere Ve l'ho detto eh Appunto Easy Se non fosse che c'è da A creare qualcosa Questo arriva di là Grazie per metterci la rete eh Non dovevi Vabbè ma è accessibile Perfetto Sono un coglione io Telecamera Sblocca Eh sì sì ma dov'è l'antenna È qua Ok Non capivo infatti Sblocca antenna va Sbloccati Con l'iPhone 4S Oh però mi dovete dare un sacco di Di oggetti Punti esperienza Cose dopo tutto quello che sto raccattando eh Non fare il tirchio Quattro antenne su tredici È ancora lontano qua Tutta la faccenda Ancora un bel po' da dire Anche perché tante antenne raga non si trovano Cioè Adesso ne andiamo a fare Un'altra sola Per forza E le altre poi le andremo a fare più avanti Oi Questo furgoncino raga è proprio L'antisesso Cazzo fa quella donna Comunque Suppongo Si debba Entrare da qui Esattamente Poi Prossima manovra Carello e elevatore Ma se io facessi questo Che è una cosa molto villana eh Però Può essere efficace Eh ovviamente non te lo fa mica fare Questo Farabutto Bene molto interessante Però a me serve una telecamera Perché l'antenna la vedo anche Il problema È trovare tutto quanto Telecamera Non ci credo Perché non ci credi Anche le persone sto stronzo Capito Parole tue Guarda tutto quello che No L'ho vista L'ho vista L'ho vista L'ho vista L'ho vista L'ho vista Era su Era su Era su Eh a me l'ho vista L'altra telecamera Per forza Appunto È lassù Che palle Eccola Sblocca Abbiamo sbloccato Il quanto Ma adesso come si entra? Ascensore Ascensore Ok 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 ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ma come no Signor giudice Non è giusto così Guarda qua Yes Immaginate muovere il carrello E l'elevatore E rimanereci schiacciati sotto Cioè sarei capace Veramente di farlo Non mi meraviglierei affatto Comunque questo Lo abbiamo già su Il che è a posto Sali coglione Sblocca Un altro punto ottenuto Allora Cinque antenne Uh Perfetto Amargosa Turbo Macchina sbloccata Butta la via Contenuto era sbloccato Allora Intanto Progressi A quanto siamo? Al 4% Sti gran cazzi Avrò dell'abilità Un punto Ok R3 Può essere molto utile E questo serviva per uscire Vedete? Eh sì Però abbassati Sennò io nesco Non si abbassa Non si abbassa So stronzo Ragazzi abbiamo un problema Molto grosso Forse lo risolvo così Magari ammazzandomi Ma lo risolvo Anche ammazzandomi Raga Sono Mi sono autobuggato Praticamente Ah Mi sono autobuggato Ah Sti bug Cheat Ok Questa farà molto male Però forse no O forse sì Va bene Era D'obbligo ragazzi Devo farlo per forza Va bene così D'obbligo ragazzi